Cosa va per primo? La farina. Vessiamola. Così basta? Tutta. Allora, dai. Onda. Cosa dà? Latte. Giralo, giralo ora. Fai un vero giro. Ok. Devo fare stop un'altra. Che stai facendo? Sto togliendo la buccia che stai facendo la buccia. Vai, mamè. Ok. È così. bravissima e ora mescola segniamo prima le uova così vi diamo un bel colpe ecco qua è super super bello mettiamo anche questo e l'olio è bollente faccio io ok perché questo è bollente mescolalo non è più spezzettare si spezzettalo no così guarda ok 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 vuoi una forchetta? no grazie la cosa bisogna fare ora sto mescolando perché l'abbiamo messo ancora un litro di farina si deve mescolare un po' più veloce spezzettiamo il bollo spezzettiamo per bene andiamo 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 facciamo un bel liceo rotondo mettiamo e mettere tutto qua mettere per bene come scende la bellezza ma hai detto ai tuoi ai tuoi fan che torta è? è una torta margherita perché ora perché poi dobbiamo portarla a scuola è come i veri chef come i veri chef chef brava basta questa è la torta margherita la torta è pronta vediamo se poi è buona